Ta be' sua Per cui arbeitesti tu come moda? È diversa. Ma in un momento, per cui arbeitesti tu? Per un grusere il moda. Tu hai una cosa l'altra? Noi, non ho fatto un'ultimo. Non ho mai alti o'armi. Non ho fatto un'ultimo. Non sei un'ultimo. E' un'ultimo. Hai queste due possibilità. A. Tu puoi fare un'interroge passato. Non problemi. B. A. o che vuoi? 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 io fio il suo ruolo 450 euro può essere il nostro gruppo di teile non è che vuoi? non è che vuoi? non è che vuoi? non è che vuoi? o che vuoi? o che vuoi? è un'impella dove hai? non è che vuoi? non è che vuoi? è non è che vuoi? questo è un'impella non è che vuoi? non è che vuoi?